ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial in tema baby shower questo set l'ho realizzato con la nuova collezione della marca madame glam che contiene 10 colori pastelli più un top coat senza dispersione con glitter i colori sono fantastici perfetti per questa stagione sono molto pigmentati e densi grazie a tutti uso il 3d gel trasparente per disegnare il piedino formo il primo strato e lo asciugo in lampada col secondo strato aggiungo spessore invece con il terzo strato aggiungo spessore solo nelle zone dove evidenzio che sia un piedino l'altra parte del piedino lo sfumo con top coat senza dispersione o o uso la matita per segnarmi contorni del disegno o 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 Grazie a tutti. 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 spolverso. a tutti. bianco.